Sì, siamo pronti a partire, a fare questi due giorni di visite, di teste e poi a partire con il vero ritiro, con il vero lavoro e si parte sempre con entusiasmo. Sono parole che sicuramente fanno piacere perché vuol dire che è stato apprezzato quello che è stato fatto l'anno scorso, però adesso è un altro anno e quindi bisogna riazzerare tutto, rimettersi tutti a disposizione e incominciare la nuova stagione sapendo che non conta più il passato ma bisogna partire col piede giusto quest'anno. Sicuramente è una squadra in cui si riesce a costruire un mix giusto tra giovani e un po' meno giovani perché vecchio è brutto da dire, è sicuramente una cosa che può con lavoro dare i suoi frutti. Sicuramente fa piacere iniziare perché era tanto che eravamo a casa, non vivevamo lo spogliatoio, non vivevamo il campo e quindi iniziare è sempre bello e non vedevamo l'ora di incominciare la stagione. Sicuramente dopo un paio di settimane in cui cerchi un po' di ripristinare le forze poi dopo è normale che si incomincia pian piano a riportarsi in forma, quindi è una normale estate che un calciatore deve fare in cui deve piano piano riprendere per presentarsi al massimo o comunque già in condizioni al momento della ripresa.